La dannosa correlazione tra obesità e covid, maggiore è l'indice di massa corporea, maggiori sono le probabilità che sviluppi l'infezione in maniera più grave. Lo studio, approfondito, meticoloso, porta alla firma dell'Università d'Annunzio. La ricerca, testè pubblicata e figlia di un lavoro importante prodotto dal professor Nicola Antonio Dorazio, ordinario di scienze tecniche dietetiche applicate nel Dipartimento di Scienze Mediche dell'Ateneo d'Annunzio, con la preziosa collaborazione della dottoressa Maria Alessandra Gammone. Professor Dorazio, entriamo nel merito, esistono delle relazioni pericolose tra covid e obesità, perché e in che senso soprattutto? Il problema fondamentale che si pone è che l'obeso, per un profilo immunologico dove l'infiammazione, le cosiddette citochine infiammatorie, predispongono in questo caso il sistema immunitario ad avere una maggiore fragilità nei confronti del virus. Questo significa che l'obeso potrebbe rischiare di più di ammalare di covid rispetto al normo peso. Il secondo dato fondamentale, sempre sul sistema immunitario dell'obeso da valutare, è quello di entrare nel merito della clinica, ovvero se noi dovessimo affrontare la prevenzione, come comportarci nei confronti dell'obeso? Quello di dire soprattutto di quanto l'obeso possa rischiare, ma soprattutto le complicanze, soprattutto l'insufficienza respiratoria, soprattutto l'insufficienza cardiovascolare. E questo è fondamentale soprattutto per l'aspetto della gestione a medio e a lungo termine del paziente. Qual è il consiglio che lei si sente di dare? Valutare con molta attenzione l'obeso. Noi spesso pensiamo che l'obeso sia soltanto un rapporto di BMI, cioè peso e altezza. Invece bisogna entrare nel merito del sistema immunitario dell'obeso, valutarlo e soprattutto verificare quanto l'obeso nel tempo possa sviluppare patologie immunologiche molto gravi. Professore, la vaccinazione a questo punto potrebbe essere un deterrente se ci riferiamo all'obesità o no? Sì, io non sono contrario alla vaccinazione. Sono per la vaccinazione consapevole dal punto di vista scientifico. Cosa significa? Prima di eseguire una vaccinazione e in questo caso d'obbligo far fare al paziente un esame sierologico, in questo caso immunoglobulina G, immunoglobulina M, e soprattutto fare un esame per la valutazione quali quantità tira degli anticorpi. Perché questo? Proprio per valutare lo stato immunitario del soggetto prima di essere vaccinato. Dopodiché si decide se effettivamente il paziente è da vaccinare o meno.